mister francamente mi viene difficile chiederti cosa si poteva fare di più oggi al di là del buttarla dentro vabbè però è veramente l'unica cosa che vi è mancato oggi perché avete creato non avete rischiato praticamente niente se non su un tiro da quanti 25 metri su cui Pistardo ha fatto egregiamente il suo lavoro avete sbagliato il rigore non siete riusciti a buttare dentro una palla da 5 e 10 metri con Mastroian avete messo lì la processo per 90 minuti 90 credo che dal punto di vista dell'allenatore tu possa essere soddisfatto per l'atteggiamento è chiaro che poi ci sono sempre i risultati da guardare questo non vi sorride no non sorride Matteo perché una buona prestazione sapevamo contro una squadra chiusa le nostre opportunità ce l'abbiamo avuto abbiamo avuto il nostro ci siamo cercati l'episodio del rigore se avessimo segnato il rigore per le caratteristiche che abbiamo la partita secondo me potrà finire anche 2 3 a 0 per le caratteristiche che abbiamo una volta aperto la processo questo è un avvenuto l'atteggiamento è stato giusto abbiamo come detto tu un tiro un bel tiro da 25 metri però il tiro da fuori bisogna consentirlo se no devi scontrare in aria quindi è stato bravo Marco e poi la partita l'hai detto tu come è andata dispiace perché il come ha posto per guadagnare punti no e noi dobbiamo abbiamo mostro la classifica però c'è i rammari con questa partita bisogna bisogna portarla a casa bisogna portarla a casa perché l'episodio dove si è cercato e dispiace dispiace per Riccardo innanzitutto e dispiace per la squadra ecco su Riccardo proprio purtroppo con la prosesto i rigori non dicono bene si crea sempre un motivo di di dibattito che Riccardo non ha in particolarmente tirare i rigori è storia che affonda le radici a ormai sei sette anni fa la sua prima esperienza l'ecco quest'anno aveva aveva fallito poi trovando la ribattuta se non sbaglio con la provercelli la ribattuta vincente è un qualcosa su cui magari vorrei parlare con lui al di là del fatto che hai sempre detto al nostro rigorista e via dicendo quest'anno di trasformazione pulita di Riccardo mi ricordo quella con la la Pistoiese sulle altre situazioni anche Grosseto e via dicendo non si scuta chiaramente al punto di vista tecnico su un calcio di rigore perché non prendere la porta da undici metri è quasi impossibile anche se oggi purtroppo è successo però su sulla freddezza lui con giocatore molto emotivo puoi avere un dialogo con lui hai detto bene Matteo sicuramente parlerò con il ragazzo perché poi il compito mio quello difficile è che insieme al ragazzo come ho sempre fatto con tutti i ragazzi troverò troverò la soluzione nel senso che tu mi dirai Siva no mancano sette giornate non è che abbiamo preso tanti rigori però come detto tu Ricci è un ragazzo che ci tiene tantissimo e magari il fattore emotivo essendo lui emotivo la può pagare alcune volte cara soprattutto su un duello che quello che è il rigore che è il duello massimo nel calcio no perché tu ti affronti col portiere parla da fermo e là ci vuole ci vuole freddezza questo non vuol dire che lui non batterà più però io prima di prendere delle decisioni parlerò con il ragazzo perché se dovessi cambiare il tiratore Ricci la deve prendere bene e quindi prima di sentenziare o giudiziare mi piace parlare con il ragazzo perché lui non si debba sentire escluso da una scelta anzi si fa tutto per il bene della squadra e magari alleggerire anche lui emotivamente però ripeto io gli ho sempre dato massima fiducia continuerò a dargliela per quello che lui mi dà in allenamento dalla squadra e compagni e insieme sicuramente troveremo una soluzione marcello l'audio buonasera buonasera mister la prima domanda che le voglio fare mi interessa di di foglia cosa sa lei volevo dirle che sentirlo urlare in campo per noi un'esperienza nuova non c'era pubblico ed è stata una cosa che personalmente mi ha impressionato come sta fabio foglia innanzitutto stiamo facendo gli accertamenti i dottori subito si sono precipitati pronto soccorso all'ospedale non c'è frattura però bisogna vedere se sono interessati legamente la caviglia di sicuro mi dispiace dirlo ma di sicuro credo che abbia finito qui bene rispetto a questa cosa qui eh tutto il resto lo lo prendiamo per quello che ho visto un lecco vivo ho visto l'eco un po' in difficoltà nella nel primo tempo molto meglio nella ripresa una squadra come una procesto che si è chiusa a tratti anche molto bene però alla fine insomma eh bisogna bisogna buttare le palle dentro ehm al di là del discorso del eh come dire del calcio di rigore che può sbagliare solo chi lo tira c'è anche un discorso ancora una volta di occasionissime mancate per un soffio insomma e lo so Fiorenzo eh certe volte mi viene da sbattere la testa al muro perché noi siamo una squadra che o fa quattro gol o a cinque sei palle gole cioè il paradoso è quello eh capito quindi ripeto non io dico sempre ai ragazzi l'importante è arrivarci questo l'ho detto all'inizio stagione l'ho detto a metà adesso le occasioni mancate pesano perché non è che hai le partite cominciano a scemare no e noi siamo abbiamo perso non dico alcune volte abbiamo perso con punti per nostri demeriti oggi oggi col grosseto abbiamo perso punti perché ci vuole quella cattiveria quella voglia di che anche se non prendo non faccio gol l'avversario c'è capito poi trovare le parole giuste no perché magari non si riesce a caldo eh però vi posso dire che l'amarezza di questa partita di quella del grosseto l'amarezza è tanta l'amarezza che si deve si deve trasformare perché abbiamo anche il tunnel in fase settimanale da da recuperare contro la pergolettese abbiamo una partita in meno rispetto alle altre però sono sono punti purtroppo che bisogna essere realisti pesano 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 perché noi con il grosseto e il grossesto potevano avere quattro punti più e i ragazzi devono prendere considerazione che nessuno poche volte ci hanno messo in difficoltà e noi per noi perdiamo punti io sempre ragazzi noi possiamo perdere solamente con noi stessi e stiamo perdendo punti per non dico per colpa però stiamo perdendo punti per qualche difetto non per meriti dell'avversario. Marcello Villani ritorno da te. Grazie. Grazie a te. Ok. Sì mister il primo tempo a me non è piaciuto credo che sia un po abbastanza obiettivo che non riuscissimo a trovare il bando lo abbiamo rischiato anche di prenderlo al di là di Marchesi che quello sì e quei tiri bisogna concederli sicuro invece nel secondo tempo beh l'infortunio di Foglia credo abbia condizionato tutti è stata una cosa terribile anche i giocatori che sono uomini eh di sicuro risentono di quelle cose nel finale quando probabilmente un po' di preoccupazione era scomparsa il Lecco ha rischiato di vincere però siamo sempre lì non riusciamo quando le partite non si sbloccano e si vedono non riusciamo a trovare altre soluzioni non sta a me eh stabilire quali però eh beh tu mi fai la stessa eh considerazione quando incontriamo quando le piccole e io ti devo rispondere sempre alla stessa maniera ma c'è eh giochiamo a ping pong certe volte su quando noi la noi la le occasioni le abbiamo avute abbiamo avuto la possibilità di sbloccarla io cosa posso cioè onestamente ma non per lavarmi le mani perché io sono sempre il primo responsabile ma quando tu prepari una partita hai delle occasioni hai l'opportunità di vincere l'episodio noi l'abbiamo trovato contro la squadra che aveva messo noi il pullman pullman treno e nave quindi eh abbiamo rischiato nel primo tempo su un tiro da trenta metri io vorrei prendere ogni domenica un tiro da trenta metri abbiamo anche il portiere che è bravo poi non lo so non so cosa risponderti ti ripeto io su questa vicenda ti posso dare ragione perché i fatti dicono questo però noi l'episodio ci siamo cercato abbiamo potuto dice la partita abbiamo avuto altre occasioni se poi non la butti dentro una zero per te cioè per te perché altrimenti ti rispondo sempre la stessa cosa no eh la cosa che mi è farsa quelle soluzioni le ho cercate perché siamo passati l'ultimo quarto d'ora 4 3 3 quindi vorrei che posso mettere tre uomini e sostituirne giocare in 14 ho cambiato assetto tattico per avere più ampiezza sulle fasce due contro uno siamo riusciti ho messo nando perché loro si erano schiacciati e quindi mi serviva uno rispetto a riccardo bravo nelle sponde di testa e soprattutto bravo perché l'ho fatto bene nando che poteva pure far gol eh ho cambiato azi per mettere masini che eh e avere parità numerica a centrocampo e avere ecco questo io questo l'ho fatto sì 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 questo io eh io ho questa fissa di quando almeno non va come dovrebbe di vedere Bolzoni più libero di poter fare il regista perché ha i numeri per farlo non sarà un regista di nascita però quando è solo quel compito lì l'ultimo quarto d'ora l'ho messo lì l'ho messo lì ho messo un giocatore muscolare come Masini soprattutto nella transizione ho aperto ehm Gigio Liguori e Iocolano per avere due contro sulle fasce e consentire i cross è capitata quella palla andando sulla retta piccola eh mi è sembrato andare meglio insomma ecco sì sì ma infatti non è che quando uno cerca di trovare delle soluzioni per vincere la partita e poi non si butta la palla dentro capisco la tua osservazione però sei visto noi non sono rimasto con lo stesso assetto ma ho cambiato per cercare di dare anche imprevedibilità soprattutto nella loro pressione dove non riuscivano più a venire ad avere punti di riferimento nella loro pressione però non abbiamo fatto gol e pazienza ok grazie sì buonasera mister eh Capogna e Iocolano a mio avviso è umano che siano magari un po' poco lucidi o comunque in debito d'ossigeno e lo dimostra appunto l'errore di Capogna sul rigore però non crede che tolti loro due manchi forse quell'uomo chiave che a centrocampo possa risolvere indirizzare una partita anche con un tiro da fuori perché anche in zona gol i nostri centrocampisti purtroppo non si sono ancora sbloccati quindi non crede che magari forse manchi questo aspetto tolti loro due in che senso non ho capito scusi no tu mi hai detto tolti loro due in che senso sulla sulla livello balistico dal tiro dalla distanza sì un tiro da fuori o comunque un centrocampista che sia propositivo che tiri da fuori che segni insomma ma non abbiamo quelle abbiamo non abbiamo centrocampisti a parte Galli che si è fatto male a parte anche Foglia non abbiamo quelle caratteristiche se Bolzoni era un grande tiratore batteva lui tutto se Marotta era un grande tiratore non abbiamo calciatori c'è centrocampisti a parte Galli ripeto all'inizio e Foglia adesso che dalla distanza cercano anche il tiro da da lontano e quindi Gliocolano Liguori Riccardo lo stesso Azi anche se non ha un gran tiro dalla distanza però c'è il tiro un po più a giro sono questi giocatori che possono determinare da lontano però per caratteristiche ripeto ci manca Galli che tiro dalla come come diciamo la famosa stecca da lontano noi per caratteristiche non abbiamo grazie davide tagliabue buonasera mister allora le chiedo un commento sul sul ritorno di di Mastroianni che a questo punto della stagione diventa veramente importante e su quanto può essere importante l'ora a questo punto no no ma per me non è che sono importanti perché mancano o Fabio si è fatto male riguardo all'ora Lando è un giocatore che c'è mancato per le sue caratteristiche soprattutto nel sapere tener palla nel dare anche l'alternativa a a Riccardo soprattutto quando ci sono le le partite ravvicinate per cercare di ecco allora ispirare un po' eh dai la possibilità di recuperare sono due giocatori ma per me i ragazzi sono tutti importanti di certo è che adesso andiamo a Pistoia poi abbiamo la Pergolettese poi la Propatria è normale che c'è 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 posto per tutti giocheranno tutti eh soprattutto soprattutto in quei giocatori che hanno bisogno di rifiatare eh e riprendere un po' di energie psicofisiche perché noi c'eravamo preparati molto bene con la Pergolettese per via del covid ce l'hanno spostata ce l'hanno incastrata molto bene il 31 marzo dove non abbiamo neanche il tempo con la propata di poter rifiatare ecco perché giochi 72 ore dopo quindi dobbiamo dobbiamo anche stravolgere l'organizzazione degli allenamenti la metodologia perché avevamo un certo programma l'abbiamo smantellato e di sicuro i ragazzi in questi in questi giorni nel rush finale faranno meno minutaggio negli allenamenti è molto più intenso ma con un tempo ridotto perché hanno bisogno pure di non dico di recuperare ma di vivere eh anche perché prepari sempre le partite cioè hai un giorno per allenarti e l'altro per preparare le partite quindi le energie vanno distribuite e soprattutto scenderà in campo chi ha più freschezza sia fisica che mentale. Grazie mille. Giulia Anni una domanda prego. Sì mister le chiedo un commento sulla prestazione di Manie Liguori c'era un po' questo ballottaggio come come li ha visti forse Magni un po' in ombra nella sua ora in campo come come ha bisogno di prendere minutaggio Magni perché è rimasto fuori eh settimana scorsa non questa si è allenata poco per via del tendine aveva bisogno di e che è un giocatore anche lui muscolare ha bisogno di eh prendere un po' di minuti Liguori è entrato abbastanza bene anche se poi ho cambiato asset quindi si è dovuto riadattare in un nuovo in un nuovo ruolo anche se lo ha sempre fatto ripeto chi sta bene gioca eh adesso non c'è più il il le gerarchie chi sta bene gioca chi chi è più fresco mentalmente chi dà speriamo che si alzano le temperature perché ho dei giocatori pure adatti per diciamo giocare con una temperatura più calda vedi Liguori vedi Dudu gente Masini Nesta c'è gente ragazzi freschi che possono possono far bene primo tempo decisivo in due occasioni almeno mi ricordavo una terza ma adesso non mi so bene quella del centrocampo su Marchesi quella su Gattoni e poi è quella è quella su calcio d'angolo sì insomma San Pisardo ora Pro Nobis San Pisardo no nel senso cioè secondo me abbiamo fatto una buona gara diciamo io sono stato un po' più impegnato del solito però ricordo che noi subiamo secondo me pochi tiri in porta partita oggi c'è stato un po' più bisogno di me però nel senso secondo me abbiamo gestito bene cioè diciamo comunque i loro tiri in porta sono venuti uno da metà campo va bene è stato bravo sono stato bravo io però comunque sono stati c'è un tiro un po' fortuito il anche l'altro tiro comunque da 30 a 35 metri quindi diciamo che sono stato mi sono fatto trovare pronto però secondo me la difesa oggi interpretato ottimamente la gara perché a parte quelle due occasioni che comunque da distanza siderale nessuno si aspettava un tiro da lì comunque diciamo nei venti metri nei quindici metri ha concesso veramente poco e niente ecco ecco e la seconda domanda invece riguarda il fatto che insomma questa volta l'eco che costruisce di solito 4 5 occasioni a gol poi come col grossetto magari le sbaglia però le costruisce ha avuto rigore occasionissima e poi poco alto mi ricordo mi pare Iocolano nel finale sotto la traversa e vi è stato sfortunato la sfortuna diciamo non è che incide ma la sfortuna e la fortuna te la crei diciamo io sono convinto di questo noi come al solito si sa che soffriamo un po le squadre che si chiudono e ripartono perché c'è comunque la prosesto è venuta qua ha fatto ottimamente quello che doveva fare si è chiusa e ripartita noi abbiamo fatto fatica diciamo a scardinare la loro difesa e sono cose che c'è in serie c ma non siamo solo noi e questo che voglio dire c'è tutte le squadre fanno fatica contro diciamo un po che sono più dettate al gioco dal basso al possesso palla fanno molta più fatica con queste squadre noi quest'anno abbiamo diciamo questo problema e dobbiamo cercare di risolverlo perché ormai mancano comunque otto partite e diciamo dobbiamo cercare di far più punti possibili per arrivare a fare cioè ad arrivare un piazzamento di playoff abbastanza alto per giocarli così almeno in casa ecco Matteo Bonacino ciao Marco il mister ha parlato senza girarci troppo intorno di un po poca cattiveria magari non parlava chiaramente della difesa ma magari nelle situazioni importanti sottoporta negli ultimi 20 metri che siete stati bravi a mio parere a occupare con la prosesto soprattutto nell'ultima mezz'ora cosa ne pensi tra l'altro penso che il portiere dalla propria visuale pensi sempre che l'attaccante possa fare di meglio no non penso che possa fare di meglio però sono d'accordo con te che oggi comunque nonostante noi abbiamo questo problema con le squadre che si chiudono noi abbiamo fatto nel primo tempo un'ottima partita secondo me perché abbiamo mosso bene palla e anche nel secondo perché loro comunque facevano loro solo buttavano la palla lunga e speravano succedesse qualcosa comunque noi l'abbiamo mossa per muoverla l'abbiamo mossa bene però è anche vero che effettivamente abbiamo creato poco cioè siamo abbiamo creato tanto ma siamo arrivati poco al tiro perché comunque se tu guardi le occasioni create ne hai avute cioè si è arrivato sempre negli ultimi metri è mancato una volta l'ultimo passaggio una volta la deviata al difensore una volta uscita diciamo che ci è mancato quello ecco io non so che poi sia cattivere o meno questo lo sa il mister e lui che prende le decisioni però io sono convinto che oggi comunque secondo me rispetto alle altre partite che magari facevano fatica proprio anche nel gioco oggi il gioco secondo me c'è stato perché effettivamente abbiamo creato abbiamo mosso bene la palla e solo che siamo arrivati poco alla conclusione perché questo è un dato di fatto quindi è innegabile ecco dopodiché guardo il rendimento delle ultime partite a Novara avete perso male però diciamo vale per me un po come piacenza all'andata un ostacolo che avete preso in faccia e ci può stare in un percorso lungo come quello di un campionato e poi due pareggi di fila molto diversi sicuramente per come la vedo io con Grosseto e Prosesto appunto oggi quindi diciamo che ultimamente il calendario i risultati che avete ottenuto non penso gli facciano comunque star particolarmente tranquilli no allora sicuramente non siamo agitati perché adesso io non so dati alla mano però mi sembra che mi ha perso una partita nelle ultime 14 ecco ditemi una squadra che ha perso una partita nelle ultime 14 e poi voglio cioè la Provercelli penso sia l'unica non ne trovo altre è vero abbiamo fatto due pareggi però può succedere in un cammino in tutto un campionato però mi sembra cioè io sono molto contento perché una sconfitta in 14 partite per una squadra come noi mi sembra cioè non puoi essere arrabbiato nel senso è vero potevamo vincere Grosseto potevamo vincere oggi però comunque non hai perso e queste alla fine sono punte che ti ritrovi c'era ammarico però sicuramente non si può parlare di essere di non essere tranquilli perché mi sembra da fuori di testa ecco questo voglio dire Cerenzo Radogna prego buonasera Pissardo lei è uno dei calciatori più coraggiosi in circolazione quindi adesso mi risponderà in modo di retto il Como ha perso le ultime due partite che riflessione le suscita questa circostanza sinceramente sinceramente che il girone a tutti dicono che sia un girone facile ma non è non mi sembra proprio così perché il Como che è la prima della classe dovrebbe ammazzare tutti vincere 4-0 tutte le partite ha perso due partite di fila e non c'è nel senso io non le ho viste le loro partite però anche cioè sembra facile no a parole andare a vincere col Piacenza vincere con l'Albino Leffe però anche il Como ha perso tutte e due quindi io questo voglio dire che se non è bisogna essere contentissimi della stagione che stiamo facendo e non diciamo le critiche poi ci stanno perché effettivamente non vince due partite però noi nel nostro spogliatoio siamo sereni e continuiamo ad andare avanti verso l'obiettivo che sono i playoff ultima domanda Alessandra Provercelli se la vede perché tifa? non tifo nessuno perché comunque qualsiasi delle due non vince o diciamo cioè noi in qualunque caso mangeremo punti su una a meno che pareggiano che rimane tutto così però in ogni caso o sull'Alessandra o sulla Provercelli mangiamo un punto perché così dice che oggi abbiamo pareggiato loro o pareggiano e rimane tutto uguale o mangiamo un punto su una delle due grazie ciao Marco intanto come avete vissuto il momento dell'infortunio di Fabio Foglia e poi soprattutto se pensi che magari questo infortunio abbia un po' condizionato la gara negativo diciamo perché comunque la partita già di per sé era abbastanza lenta come ritmo e poi è chiaro che questo infortunio forse può avervi condizionato diciamo l'infortunio è stato un momento bruttissimo soprattutto a chiunque sarebbe successo non sarei rimasto veramente dispiaciuto però soprattutto Fabio che io lo conosco da un anno e mezzo ormai perché ci ho giocato un anno ad Arezzo veramente mi si è fermato il cuore per un attimo perché io poi ero il primo a vederlo è stato veramente brutto e giuro per i cinque minuti dopo mi sentivo male perché stavo pensando a lui in ospedale che e poi adesso non so cosa si sia fatto perché non abbiamo avuto indicazioni però spero niente di grave anche se la vedo dura però guardi in effetti io non so se la gara sia stata condizionata però abbiamo ci siamo fermati quattro cinque minuti è logico poi la gara per i cinque minuti dopo è ripartita un attimo lenta queste sono cose che succedono ma non è da imputare a nessuno nel senso se ti fermi cinque minuti non è facile poi dopo cinque minuti reingranare subito i ritmi che avevi prima ecco Davide toglie a voi Sì velocissimo ti chiedo solo se secondo te è giusto essere più arrabbiati per questi due punti persi oppure soddisfatti per quanto per il cammino fatto anche in ottica delle prossime partite secondo me ci deve essere un mix cioè devi essere arrabbiato perché giustamente tu sei una squadra comunque con 52 punti e ogni partita tu la devi giocare per vincerla però bisogna essere anche soddisfatti perché anche oggi non hai preso gol anche oggi hai portato un punto come dicevo prima hai perso una partita le ultime 14 questo vorrà dire qualcosa cioè vorrà dire che siamo una squadra difficile da battere e questo è un dato oggettivo quindi secondo me devi avere un giusto mix tra arrabbiatura però devi essere comunque convinto che sei una squadra solida quindi non disperarti che hai pareggiato con la Pro Sesto ma comunque vedere vedere sempre il bicchiere mezzo pieno se vuoi arrivare al finale di stagione secondo me in buona forma in buono stato mentale devi sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e mai disperarti ultima domanda con Gioele Marco solo un commento un po' sulla situazione del rigore da portiere come lo commenti se magari ne avete parlato in spogliatoio ha parlato io a Riccardo ho detto solo una cosa ho detto che i rigori li sbagliano in seriali sbagliano in Champions League li sbagliano in mondiali sicuramente un errore su rigore ci sta e non di certo non pregiudica il campionato di un attaccante come lui che ci sta dando una mano enorme per i gol ma non solo per i gol ma per tutto quello che sta facendo per quest'anno ci sta dando una mano incredibile penso sia la sua migliore stagione in Lega però come score e lui l'unica cosa che mi sento di diglia è che non deve deve farsi scivolare addosso questo episodio perché è solo un episodio come può capitare a lui può capitare a me di prendere gol da 50 metri è solo un episodio ecco e lui è un grande attaccante sicuramente ma questo ci metto la mano sul fuoco si risolleverà alla grande